martellate e coltellate violenze sciocca fermignano e gabice dalla regione un piano del lavoro da 350 milioni di euro alla scoperta di villa giulia residenza pesarese di pavarotti nuovi servizi a mombaroccio contro lo spopolamento bancario moto turismo successo per il terzo rally delle marche una buona serata un buon inizio di settimana con l'informazione di rossini news a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia della nostra informazione serale che in questo telegiornale di lunedì 16 ottobre apriamo occupandoci di cronaca perché nel giro delle ultime 24 ore ci sono stati due gravi episodi di violenza inaudita nella nostra provincia di pesaro urbino due tentati omicidi che sono avvenuti a fermignano e a gabice mare il primo nella notte fra sabato e domenica proprio in pieno centro a gabice mare e le secondo questa mattina all'alba a fermignano vediamo tutto nel nostro primo servizio due aggressioni di inaudita violenza nel giro di 24 ore si sono consumate fra gabice mare e fermignano due persone sono ora ricoverate in ospedale e nel caso di gabice la vicenda ha prodotto due arresti per tentato omicidio mentre nel caso di fermignano ha prodotto una caccia all'uomo quella dell'automobilista che all'alba di questa mattina ha tentato di investire con l'auto per poi aggredire a martellate matteo bastianelli direttore del conad di fermignano alle 6 40 di mattina il 40 sienne avrebbe inveito contro un'auto passata col semaforo rosso che ha rischiato di travolgere il direttore del conad mentre attraversava la strada per tutta risposta l'automobilista è tornato indietro ha cercato di investire lo stesso bastianelli dopodiché è sceso dall'auto con in mano un martello è cominciato a colpirlo con violente martellate sono accorsi sul posto degli operai di marche multiservizi che hanno indotto l'aggressore a risalire in macchina a darsi alla fuga segnalata l'auto ai carabiniere partita la caccia all'uomo che è stato individuato bastianelli è ricoverato all'ospedale di urbino con un trauma cranico e varie echimosi ma non è in pericolo di vita da ferminiana gabice invece ricoverato in ospedale in prognosi riservata pasquale marzocchi 52enne napoletano residente nella stessa gabice trovato a terra sanguinante a lune 30 della notte fra sabato e domenica non lontano dal municipio marzocchi è stato vittima di una brutale aggressione con accoltellamento in cui ha rimediato la perforazione della milfa di un gluteo oltre alla rottura di alcune costole del setto nasale sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio due fratelli di 39 34 anni anch'essi campani residenti nel territorio i carabinieri li hanno individuati al pronto soccorso di cattolica per curarsi da ferite riportate in una presunta collutazione sono scattate le manette ma i due hanno riferito di aver agito per legittima difesa secondo le indagini ci sarebbe però un movente legato a questione di soldi alla base dell'aggressione lasciamo la crona che passiamo alle politiche della regione marche che dopo 15 anni prepara un nuovo piano triennale dedicato alle politiche attive del lavoro che sarà appunto attivo per il triennio 2024-2026 si tratta di un maxi stanziamento da 350 milioni di euro che ci viene illustrato in queste interviste dall'assessore regionale al lavoro stefano guzzi e dal governatore della regione marche francesco cuaroli un investimento di 350 milioni di euro in tre anni un piano triennale che non veniva realizzato dal 2014 l'ultimo piano era stato pensato nel 2012 fino al 2014 poi non era più stato previsto piano triennale ma solo piani annuali questo era molto limitativo perché non dava diciamo la possibilità di programmare anche a tutte le agenzie per il lavoro le imprese stesse gli clienti formatori quindi un piano triennale che si basa sul coinvolgimento anche del settore privato quindi le agenzie private per il lavoro oltre ai nostri centri per l'impiego il rapporto duale di inserimento diciamo così nella formazione cioè avvalersi proprio dell'ingresso direttamente in impresa di chi è che porta avanti i corsi di formazione lavoro la creazione di impresa quindi gli incentivi alla creazione di impresa ecco tutta una serie di investimenti di fattori un forte investimento sugli dts quindi può soffrire da qui di 16 milioni di euro di pnrr per portare a 26 corsi formativi rispetto ai 15 attuali che si sta svolgendo nella regione Marche quindi una fortissima spinta all'incentivo diciamo così di inserimento nel mondo del lavoro di chi ha difficoltà a trovarlo e a stimolare fortemente anche coloro che ci sono anche nelle Marche che i famosi net vengono definiti non studiano più non frequentano corsi di formazione non cercano lavoro sono diciamo così persone in attesa ecco stimolare questa parte e cercare in tutti i modi di far sì che l'incrocio domande offerta cioè le figure che servono alle imprese siano quelle figure che noi riusciamo a formare attraverso i nostri corsi di formazione per essere poi inseriti all'interno del mondo del lavoro sia i giovani occupati ma anche coloro che purtroppo in un'età avanzata sono fuori dal mercato del lavoro sono le tre emergenze su cui dobbiamo intervenire in maniera particolare poi sono delle specificità e queste tre emergenze credo che toccano la nostra regione ma come toccano gran parte del sistema paese in questo momento il sistema paese intendo l'Italia su queste emergenze ci siamo concentrati e per questo credo che i 350 milioni che sono previsti in questo piano hanno una prospettiva di azione e di risultati che noi riteniamo possano produrre effetti pratici nell'immediatezza anche quest'anno grande successo di visitatori durante le giornate fai d'autunno tanti luoghi delle marche da visitare particolare curiosità adestato l'apertura straordinaria al pubblico di villa giulia storica residenza del grande tenore luciano pavarotti che andiamo a vedere in questo servizio per la prima volta i pesaresi hanno varcato le porte della residenza del suo cittadino adottivo più illustre merito delle giornate fai d'autunno che in questo weekend hanno svelato anche le stanze di villa giulia che dal 1975 fu la residenza di luciano pavarotti incastonata fra baia flaminia e san bartolo a solleticare la curiosità dei tanti visitatori è stata poi una guida d'eccezione come giuliana pavarotti figlia terzogenita del maestro che ha mostrato spazi e narrato aneddoti di quella casa amatissima da pavarotti dal quale traeva ispirazione porgendo il suo sguardo sull'adriatico allora mio padre ha scelto di comprare casa a pesero e di passare la maggior parte del tempo libero in questa casa in questa città perché è la città dove fin da piccolino veniva in vacanza con la nonna con le zie e con la mamma e riteneva fosse il posto più bello del mondo il mare più bello del mondo con una dimensione vivibile e quindi non ha mai smesso di passare le vacanze estive quando il lavoro glielo permetteva e fortunatamente spesso in questa casa villa giulia è stato il buon ritiro di pavarotti un luogo che ha ospitato alcuni grandissimi ospiti della musica internazionale ma anche un laboratorio di preparazione al palcoscenico nonché fonte di tante ispirazioni durante le giornate fai d'autunno la narrazione della villa è stata impreziosita anche dal contributo di stefano gottin presidente della wunderkammer orchestra nonché amico della famiglia pavarotti dal 1974 ho avuto l'onore lo straordinario piacere di assistere a numerose preparazioni di titoli che poi sono andati nella discografia che ha avuto una diffusione a livello mondiale e ho anche assistito alla preparazione di diversi debutti di nuovi ruoli appunto da parte di luciano pavarotti certamente quando ci si trova conviene qui molta gente molte persone si ha proprio la sensazione a maggior ragione che luciano pavarotti sia ancora con noi perché luciano pavarotti amava circondarsi di molte persone io ricordo che fatto proprio straordinario che un uomo di tale fama tenesse aperti entrambi i cancelli di accesso alla villa così che chiunque poteva arrivare vederlo parlargli gli veniva sempre offerto qualche cosa da bere qualche cosa da mangiare insomma era è stata una stagione eccezionale che per quanto noi ci possiamo ingegnare di ripercorrere ci è impossibile certamente me la godo più io che che ho visto luciano pavarotti qui per anni e anni quindi continuo a rivederlo chi non ha avuto questa opportunità lo può immaginare però certamente certamente a me riesce più facile ecco per me luciano luciano e tutta la sua famiglia hanno letteralmente cambiato la mia vita lo spopolamento di servizi è una delle criticità croniche dei piccoli borghi mombaroccio però va controcorrente in questo senso visto che ieri banca di pesaro ha inaugurato un nuovo sportello bancario automatizzato in favore della cittadinanza un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale alla bcc di pesaro perché ha deciso di investire nel nostro territorio un territorio che vedeva la mancanza degli istituti di credito che precedentemente hanno vissuto su nostro territorio su quali avevano investito e che purtroppo nell'ultimo periodo sono venuti meno così a mombaroccio come in tante realtà della provincia di pesaro rubino invece noi abbiamo avuto la fortuna di avere un istituto che ha creduto nel territorio e che ci trova mano nella mano portare avanti quelle che sono le realtà imprenditoriali locali private affinché i territori non vengono depredati di quelle che sono punti nevralgici come quelli che sono gli istituti bancari perché se si vuole dar vita ai piccoli borghi alle piccole realtà gli istituti di credito sono fondamentali per lo sviluppo degli stessi un'altra cosa fondamentale che la banca della mia nostra banca la banca di pesaro fa per la cittadinanza in particolare per questo comune di anche questo storico molto vivo e pieno di iniziative quindi che meritava tutto il nostro interesse e la nostra attenzione è un'area diciamo self nel senso che è operativa 24 su 24 come banco materialmente versamenti ma anche bonifici ma noi siamo anche a disposizione per la consulenza quindi se ci volete chiamare su appuntamento siamo ben disponibili a venire qui e aiutarvi per tutte le vostre esigenze ci tengo a sottolineare che tutto si può fare nel senso che noi possiamo tranquillamente cambiare i conti correnti facciamo tutto noi voi non vi dovete preoccupare di nulla che è tutto molto semplice e veloce e noi siamo a completa vostra disposizione diamo la possibilità diciamo agli abitanti di fare quasi tutte le operazioni di una filiale normale perché abbiamo fatto questo uno per venire incontro a quelle necessità di quei luoghi in cui le altre banche chiudono gli sportelli noi facciamo un tentativo una prova siamo sicuri che andrà a segno perché la richiesta è stata proprio ben supportata dai cittadini quando hanno saputo che l'avremmo fatto quindi la nostra intenzione è di provare a fare uno sportello di questo tipo per poi magari anche replicarlo su altri territori sempre limitrofi alla nostra città la banca di pesero perché noi siamo territoriali e quindi dobbiamo dare un supporto alla cittadinanza del comune di pesero e dei comuni limitrofi non solo motoraduna sant'angelo invado in questo weekend appena trascorso ci sono stati anche 200 motociclisti che hanno fatto base a pesero alla palla di pomodoro per poi fare la spola tra la costa e l'entroterra in occasione del terzo rally delle marche 200 moto da tutta italia eppure da oltre confine si sono date appuntamento per tre giorni nel paddock pesarese della palla di pomodoro per altrettante giornate di rally delle marche un tour su due ruote alla scoperta dei più accattivanti itinerari moto turistici dell'entroterra che al terzo anno conferma la sua formula vincente le telecamere di rossini tv venerdì pomeriggio si sono accese al raduno preparatorio alla partenza del sabato mattina il rally delle marche è una passeggiata turistica che ha l'obiettivo di promuovere il nostro bellissimo territorio delle marche e della provincia di pesero non è una manifestazione competitiva ma è appunto una manifestazione che ha l'obiettivo di portare qui nella nostra provincia turisti in moto tutta italia e quest'anno per la prima volta anche dall'estero partecipiamo a questo evento perché innanzitutto sono amici con alessandro con tutto il club riding marche si sta un gran bene si mangia bene collaboriamo anche che neanche noi abbiamo il motoclub in abruzzo quindi ci veniamo con tanto piacere si sta bene in compagnia loro i giri sono belli le tracce sono belle quindi ci veniamo volentieri noi veniamo da chieti siamo un motoclub dell'abruzzo veniamo qua da anni e ci siamo trovati bene con l'organizzazione e torniamo ogni volta che possiamo oltre a questo evento veniamo anche quello invernale siamo venuti quest'inverno e ci troviamo bene sia col posto che con la gente si effettuerà un percorso individuale cioè non sono i piloti non partono in gruppo ma seguono il percorso tramite il loro gps in maniera individuale e il percorso si inoltre all'interno della nostra provincia la nostra partnership con rally delle marchi è assodata siamo partner per il terzo anno consecutivo abbiamo una squadra di ragazzi che parteciperà al rally ormai con alessandro siamo in ottimi rapporti tanta che ci fa esporre le nostre moto e speriamo appunto che questa partnership continui anche gli anni prossimi siamo venuti qua a pesaro perché intanto è una città meravigliosa è piena di appassionati ormai il mondo dell'adventuring e dei giri amatoriali in fuoristrada sta prendendo sempre più piede è il nostro ambiente realizziamo parti speciali dedicate alle moto da off-road e quindi quale evento migliore per venire a mostrare le nostre creazioni questo è il terzo anno che partecipiamo il rally delle marche è un evento che alessandro tamburini ha organizzato già tre anni fa il terzo anno consecutivo che partecipiamo ci abbiamo creduto dall'inizio è un rally in cui è necessario avere le scarpe giuste per poter partecipare ed ecco il motivo per il quale da specialisti preferiamo sponsorizzare questi tipi di rally essere presenti per parlare direttamente con il motociclista e suggerigli cosa cosa montare volevo ringraziare il comune di pesaro la provincia di pesaro e la regione marche per aver patrocinato la manifestazione e gli sponsor alla mia sinistra che hanno dato che hanno creduto in questo evento partecipando diciamo in maniera attiva e mettendo molti premi in palio e concludiamo il telegiornale con il nostro spazio sportivo del lunedì ricordandovi che questa sera alle 20 45 scenderà in campo la vispesoro in occasione del posticipo che i biancorossi giocheranno a pescara intanto però il weekend ha registrato i sorrisi per la vl e la megabox valle foglia che hanno ottenuto i primi successi delle loro rispettive stagioni si sblocca il campionato della vl prima vittoria per i biancorossi di buscaglia che sbancano brindisi battendo leppi casa per 68 81 decisivo un primo tempo in cui pesaro si prende un clamoroso parziale di 20 a 0 creando un solco nel primo quarto che brindisi non sarà più in grado di colmare vantaggio comodo che la vl manterrà fino al termine della gara nonostante il carico di falli che ha progressivamente pesato sui lunghi banfort è stato il top scorer di squadra con 21 punti sostenuti dalla buona prova di tambone e blujet restando in tema di basket in serie b arriva la terza vittoria su altre tante gare per l'ital service loreto basket che a pesero batte teramo a picchi 82 63 nel calcio 5 primo capo per l'ital service che eboli china il capo ai campioni d'italia in carica vince la felli 3 a 1 ma l'ital service la gioca la pari mordendosi le mani per un mancato risultato positivo che sarebbe stato più che meritato pesaro va in vantaggio con murillo schiocchette ma eboli ribalta le sorti andando a riposo sul 2 a 1 l'ital service accarezza più volte il pari ma raccoglie invece la beffa del 3 a 1 a 10 secondi dalla fine nel rugby arriva una netta sconfitta per la fiorini pesero che lotta ma cade verona con un severo 40 a 3 prima gioia invece per la megabox valle foglia che nella massima serie di volley femminile vince 3 7 a 1 a bergamo le ragazze di pistola vanno sotto ma vincono punto a punto ognuno dei tre set seguenti e con lo sport concludiamo qui il nostro notiziario ma subito dopo il telegiornale non perdetevi un altro trailer del 76esimo festival gad trailer degli spettacoli in concorso che vedono anche quest'anno rossini tv partner della rassegna trailer che possono essere votati da voi telespettatori attraverso la pagina facebook del gad amici della prosa questa sera vi proponiamo il trailer di copenhagen della compagnia note di teatro di gualdo tadino in merito a uno spettacolo che andrà in scena venerdì alle 21 al teatro rossini vi ricordiamo che il trailer più votato riceverà il premio rossini tv in occasione della cerimonia di premiazione del gad del prossimo 29 ottobre e poi come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata di questo lunedì 16 ottobre lunedì che la serata dedicata agli spettacoli di danza questa sera vi proponiamo pinocchio realizzato dall'associazione dilettantistica di fano vaganova danza come detto appuntamento alle 21 e 20 poi vi ricordo che l'informazione su rossini tv torna puntuale domattina in diretta alle 7 20 con buongiorno rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che come sempre vi tiene compagnia dal lunedì al sabato e invece si conclude qui rossini news vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti